dei moderati. Mi sembra difficilmente contestabile che una linea ragionevole, moderata e riformista ha abbandonato Forza Italia, malgrado che, ripeto, dopo il risultato del 2013 che comunque metteva in evidenza una crisi di leadership e una crisi di soggetto politico, tuttavia Berlusconi avesse avuto l'intuizione delle larghe intese, che però è stata fatta saltare dopo pochi mesi per andare ad uno scontro frontale, ad un attacco nei nostri confronti come dei traditori che trattavano con i carnefici, poi la linea estremista era così fragile che si è dovuto fare un passo indietro e a casa dei carnefici ci è andato proprio Berlusconi.